Buongiorno a te, nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il mercoledì 5 di maggio del 2021, noi stiamo leggendo la parola del Signore, libro di Deuteronomio. In questa puntata leggeremo il capitolo 10 e il capitolo 11, parola del Signore, Deuteronomio capitolo 10. In quel tempo il Signore mi disse, taglia due tavole di pietra come le prime e sali da me sul monte. Fatti anche un'arca di legno. Io scriverò su queste tavole e le parole che erano sulle prime che hai spezzate e tu le metterai nell'arca. Io feci allora un'arca di legno da caccia e tagliai due tavole di pietra come le prime. Poi salì sul monte tenendo le due tavole in mano. Il Signore scrisse su quelle tavole ciò che era stato scritto la prima volta, cioè i dieci comandamenti che il Signore aveva pronunziato per voi sul monte, parlando dal fuoco il giorno dell'assemblea. E il Signore me le diede. Allora mi voltai e scesi dal monte, mise le tavole nell'arca che avevo fatta e sono lì, come il Signore mi aveva ordinato. I figli di Israele partirono da Be'erot Bene Iacan per Mosera. Là Arone morì e fu sepolto e Eleazar, suo figlio, divenne sacerdote al suo posto. Di là partirono per Gudgoda e da Gudgoda per Iotbata, paese di corsi d'acqua. In quel tempo il Signore separò la tribù di Levi per portare l'arca del patto del Signore, per restare davanti al Signore, per servirlo e per dare la benedizione nel nome di Lui, come ha fatto fino a questo giorno. Perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli. Il Signore è la sua eredità, come le ha detto il Signore, il tuo Dio. Io rimase sul monte come la prima volta, 40 giorni e 40 notti, e il Signore mi esaudì anche questa volta. Il Signore non vuole distruggerti. Il Signore mi disse, alzati, mettiti in cammino alla testa del popolo, perché entrino nel paese che giurai loro padri di dare, loro e ne prenderanno possesso. E ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Se non che tu temi il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, e che tu ami e osserva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do, Ecco, al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene. Ma soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Poi, dopo di loro, fra tutti i popoli, scese la loro discendenza, cioè voi, come oggi si vede. Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurire più il vostro collo, poiché il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signore. Il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e che non accetta regali, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Temi il Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi e il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende. Che gli occhi tuoi hanno visto, i tuoi padri scesero in Egitto, erano 70 persone. E ora il Signore, il tuo Dio, ha fatto di te una moltitudine simile alle stelle del cielo. Deuteronomio, capitolo 11. Ama dunque il Signore, il tuo Dio, e osserva sempre quello che ti dice di osservare. Le sue leggi, le sue prescrizioni, i suoi comandamenti. Riconoscete dunque oggi che i vostri figli non hanno conosciuto né visto, cioè, la disciplina del Signore vostro Dio. La sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio stesso. I suoi miracoli, le opere che fece in mezzo all'Egitto, contro il Faraone, re d'Egitto e contro il suo paese. Quel che fece all'esercito egiziano, ai suoi cavalli e ai suoi carri, come li fece rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, quando esse vi inseguivano, e come li distrusse per sempre. Quel che ha fatto per voi nel deserto fino al vostro arrivo in questo luogo. Quel che fece ad Atan e ad Abiram, figli di Eliab, figli di Ruben, come la terra spalancò la sua bocca, e li inghiottì come le loro famiglie, le loro tende e tutto quello che erano a loro seguito in mezzo a tutto Israele. Poiché i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha fatte. Osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese nel quale state per entrare, per impadronirvene, e affinché prolunghiate i vostri giorni sul suolo, che il Signore giurò di dare ai vostri padri e alla loro discendenza, terra dove scorre il latte e il miele. Poiché il paese del quale stai per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto dal quale siete usciti, e nel quale spaggervi i semi e poi lo irrigavi con i piedi come si fa con un orto. Ma il paese del quale andate a prendere possesso è paese di monti e di vali, che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Paese del quale il Signore tuo Dio ha cura e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore tuo Dio, dal principio fino alla fine dell'anno. Se obbedirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame e tu mangerai e sarai saziato. State attenti a non lasciarvi ingannare, a non abbandonare la retta via e a non servire dei stranieri, prostrandovi davanti a loro, altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più pioggia. La terra non darà più i suoi prodotti e voi perirete presto nel buon paese che il Signore vi dà. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi, le insegnerete ai vostri figli parlandone quando te ne starai seduto in casa, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Infatti, se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, tenendovi stretti a Lui, il Signore scaccerà davanti a voi tutte queste nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto, dal Libano, dal fiume e dal fiume Olfrate al mare occidentale. Nessuno vi potrà resistere. Il Signore, il vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete. Guardate, io metto oggi davanti a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio che oggi vi do. La maledizione se non ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi ordino per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese nel quale vai per prenderne possesso, tu pronuncerai la benedizione sul monte Gerizim e la maledizione sul monte Ebal. Questi monti non sono forse di là dal Giordano oltre la via diponente nel paese dei Cananei che abitano la pianura di fronte a Gilgal presso le querce di More? Poiché voi vi accingete a passare il Giordano per andare a prendere possesso del paese che il Signore vostro Dio vi dà, voi lo possederete e vi abiterete. Abbiate dunque cura di mettere in pratica tutte le leggi e le prescrizioni che oggi ti metto davanti a voi. Parola del nostro Signore. Quindi ringraziamo anche per questa puntata, per questa occasione che noi abbiamo letto la parola del Signore. Io mi auguro che tu possa essere con me domani, quindi un forte abbraccio, un santo bacio e che la parola rimanga nel tuo cuore nel nome di Gesù. Grazie a tutti.